Perfetto, di nuovo buonasera a tutti, ben ritrovati e iniziamo con questa seconda parte della seconda sessione, seconda parte che ci porta nella dimensione otto-novecentesca ma senza dimenticare sempre la prospettiva di lungo periodo, almeno per quanto visto anche sbirciando gli abstract degli ultimi due interventi e iniziamo appunto dall'intervento del professore Emanuele Conte, anche qui una presentazione per certi versi assolutamente non necessaria, giusto due parole, Emanuele Conte, professore ordinario di storia del diritto medievale moderno presso l'Università di Roma III e di Artur de la Corte de la Sciences Sociale di Parigi, peraltro dottore di ricerca proprio presso l'Ateneo milanese, ha lavorato prima a Max Planck di Francoforte, poi presso l'Università di California a Berkeley, tra i vari incarichi. È stato visiting professional in molte università, tra cui la South Bond, l'Università di Pennsylvania, è stato fellow a Oxford dell'Università di Columbia di New York, giusto proprio per citare alcune questioni, membro di numerosi comitati editoriali di molte riviste nazionali e internazionali, fra le molte pubblicazioni possiamo ricordare Diritto Comune, Storia e Stereografia di un sistema dinamico del 2009, la coordinazione del volume entre C.D.R.E.C.E. C.D.N.E.R. Poser e Usare in Perspettiva Storica, realizzata in collaborazione con Marina Madero nel 2010, e forse uno dei volumi più recenti, La Forza del Testo, Casuistica e Categoria del Derecio Medievale, uscita a Madrina nel 2016 per i tipi della Carro Star Zero. Oggi affronterò la tematica delle qualificazioni giuridiche e dello sfruttamento collettivo del Bosco, a punti storici, che per quello che ho visto, perlomeno nell'impostazione dell'Avstrat, praticamente sarà quasi a ritroso in un primo momento, partirà dalla contemporaneità per tornare verso il problema degli usi civili come dimensione centrale per comprendere queste qualificazioni giuridiche. Prego. Grazie agli organizzatori, grazie a Giacomo De Marchi, al Presidente. Ovviamente sono molto lieto di essere stato invitato a partecipare a questo incontro, al quale vorrei dare un contributo sul tema della qualificazioni giuridiche, perché mi pare che intrecciare la dimensione più tecnico-giuridica con quella storica possa venire in soccorso di entrambe le discipline, cioè da una parte del diritto e dall'altra della storia, perché storicizzare la qualificazione giuridica aiuta i giuristi a perdere quella fiducia non scalfibile nell'esattezza delle qualificazioni giuridiche correnti o anche nella perpetuità di certe qualificazioni giuridiche che alcuni considerano permanenti dall'antichità romana fino ad oggi, mentre invece quando noi le analizziamo nella prospettiva storica, cioè contestualizziamo la qualificazione giuridica delle cose, delle persone, dei diritti e degli atti giuridici. All'interno della realtà nella quale questa qualificazione è stata posta, scopriamo che le qualificazioni giuridiche sono oggetti storici come tutto il resto degli atti umani e quindi cambiano e non sono per forza sempre le stesse. D'altra parte è anche vero che utilizzare una dimensione propriamente giuridica e puntare l'attenzione sulla qualificazione nella prospettiva storica aiuta anche a evitare di assolutizzare la storia, cioè da una parte quello che si deve evitare è di assolutizzare il diritto come schema permanente e dall'altra però anche di assolutizzare la storia, perché lavorando ormai da parecchi anni nei gruppi che si occupano di beni comuni, usici civici eccetera, capita molto spesso, un po' troppo spesso di vedere, idealizzare il passato e demonizzare il presente. Oppure un po' il contrario di quello che accade in altri ambiti quando sul giornale si usa l'espressione roba da medioevo per dire che certe cose non funzionano, quindi demonizzare il passato e santificare il presente. Anche qui credo che l'applicazione della prospettiva un po' tecnica alle qualificazioni giuridiche usate nel passato ci consenta di evitare questa celebrazione a critica di un passato pieno di armonia contro un presente che sarebbe invece la parte delle tensioni. Quindi per fare questo io volevo partire dalla più recente legge italiana in materia di diritti collettivi che vengono qualificati di domini collettivi nella legge 168 del 20 novembre del 2017, quindi è meno di tre anni fa. No, tre anni fa, un po' più di tre anni fa. Dunque molto recente per una materia che vede interventi dei legislatori a distanza di molte decine di anni, l'uno dall'altro. Questa legge propone una qualificazione non tanto del bene collettivo quanto dell'insieme circolare che lega il bene collettivo, in questo caso noi pensiamo al bosco, però più o meno il bene collettivo classico sono boschi e pascoli, montani. Questo è il bene collettivo che si ha in mente quando si parla di questo tipo di norme. Qualifica non tanto il bene quanto il rapporto circolare fra il bene e la comunità che insiste su questo bene. Innanzitutto non usa il termine qualificazioni, anzi rifugia dall'idea che sia il diritto a qualificare questo insieme cose e soggetti, perché usa il termine riconoscere. Dunque il diritto vigente non creerebbe nulla, ma semplicemente si limiterebbe a registrare qualcosa che esiste, che si è auto-istituzionalizzato. Questi domini collettivi sono dei beni che con il fatto di essere sfruttati da una collettività costituiscono ordinamenti giuridici, ordinamenti giuridici che sono qualificati dalla legge come ordinamenti giuridici primari. Di nuovo qui viene il discorso del riconoscimento e non della creazione. Primari nel senso che esistono prima del diritto statuale e che quindi il diritto statuale si limita a riconoscere, assoggettandoli soltanto alla Costituzione. Dunque la qualificazione dei domini collettivi oggi vigente in Italia per effetto della legge del 2017 è una qualificazione che mette l'accento non tanto sulla caratteristica della cosa, non tanto sulla caratteristica del soggetto, quanto sull'insieme circolare cosa soggetto che costituisce un ordinamento. Dunque si tratta di un ordinamento istituzionale che qualifica l'insieme cose persone come una comunità. questa comunità non personificata da un ente astratto creato dal diritto statuale come sarebbe il comune, è una comunità che esiste per sua propria forza perché sfrutta collettivamente un certo tipo di bene. Ora può sembrare che questa sia una scoperta, un riconoscimento che si affaccia nella legislazione italiana finalmente per la prima volta perché non c'era mai stata una qualificazione di questo genere. Considerate che l'ordinamento giuridico primario che la Repubblica italiana riconosce per tradizione la Chiesa, quello sì che è un ordinamento giuridico che è soltanto riconosciuto perché certamente la Chiesa cattolica è esistente da ben prima dello Stato italiano. Dunque la Chiesa cattolica si dà sue proprie norme, si regola, per esempio stabilisce che alcuni soggetti possano o non possano sposarsi, stabilisce che il matrimonio di altri soggetti che fanno parte della Chiesa non possa essere sciolto e tante altre norme che non sono congruenti con quelle dell'ordinamento civile italiano. Dunque l'ordinamento giuridico primario ha la caratteristica di darsi sue proprie norme, di essere legittimato a regolare sia lo sfruttamento di quei beni, ma sia anche il modo di gestione di questi beni. Ora, questa che può sembrare una novità introdotta per legge soltanto nel XXI secolo in realtà ha matrici culturali molto chiari. Si tratta delle matrici che affondano le radici nella pluralismo, nelle teorie del pluralismo giuridico, che sono state presentate direi da prima in Italia, da Santi Romano, a partire dall'inizio del XX secolo, come dottrine costituzionaliste nelle quali appunto si riconosceva la legittimità di ordinamenti giuridici che si autodeterminano, che determinano la loro legittimità dal solo fatto di esistere. Ora però qui bisogna dire che Santi Romano era tributario esplicitamente di visioni che erano un po' precedenti, che erano ottocentesche in Germania e Santi Romano infatti cita molto un grande giurista tedesco che è Otto von Dircke, il quale quando Santi Romano formula per la prima volta la teoria dell'ordinamento giuridico della famosa prolusione sulla crisi dello Stato nel 1909, Dircke aveva 70 anni, quindi aveva già pubblicato da parecchi decenni i primi tre volumi della sua enorme opera sul diritto degli organismi corporativi, che in te discorsi si chiamano Gennossenschaften, e che sono appunto organismi che compongono lo Stato perché dotati ciascuno di essi della loro legittimità precedente allo Stato. Lo Stato dunque tedesco, come lo pensava Gierke, è uno Stato che riconosce questa pluralità di organismi corporativi che possono essere locali e sono descritti molto ampiamente nella grande opera sul diritto delle organizzazioni corporative di Gierke, oppure possono essere anche per esempio corporazioni di mestiere o altri tipi di associazioni, che appunto traggono la loro legittimità non dal riconoscimento dello Stato come nel caso delle società, per esempio in Italia, o anche per diritto pubblico e diritto amministrativo nel caso dei comuni o delle regioni o delle province, cioè quei soggetti che vengono istituiti con leggi dello Stato. Invece no, gli organismi corporativi esistono di per sé e lo Stato li riconosce. Ecco il linguaggio utilizzato dalla legge così nuova del 2017 in realtà è un linguaggio piuttosto vecchio, un linguaggio che è stato presentato dalla cultura germanistica tedesca a partire almeno dal 1868, la data del primo volume di Gierke, però lo stesso Gierke cita altre ricerche che sono le ricerche di Ludwig von Maurer, il quale aveva studiato appunto lo sfruttamento collettivo dei beni nei paesi tedeschi pubblicando diversi libri intorno al 1852-54, poi un altro nel 1865, parlando della organizzazione corporativa dei villaggi e delle marken, cioè delle piccole regioni nell'organizzazione tedesca. Von Maurer usa nei suoi titoli una parola che non è diritto, come poi fa la Gierke, ma è verfassung, cioè costituzione. Anche qui è interessante, cioè von Maurer che certamente era un po' più storico che giurista, anche se è un giurista germanista, preferisce utilizzare questa parola verfassung che significa identità istituzionale praticamente, e poi è la parola che si usa in tedesco per indicare quella che noi chiamiamo costituzione. Però nell'Ottocento non è soltanto una, per esempio non è una costituzione scritta, ma è una costituzione sentita dalle popolazioni che sentono nel loro spirito come giuste e legittime alcune pratiche che vengono stabilizzate normalmente dal tempo e riconosciute dalla collettività. Dunque, come vedete, si tratta di una visione, di una qualificazione del tipo di sfruttamento collettivo che ha una sua storia, ha una sua origine anche dottrinale. Ovviamente, leggendo i libri di von Maurer o di che troveremo anche tante fonti medievali, per esempio, oppure della prima età moderna, che testimoniano effettivamente questo uso collettivo che si poteva fare di questi beni che sono condivisi. Però è anche vero che questa nuova legge del 2017 mette da parte un altro tipo di qualificazione che invece è stato dominante fino a questo ventunesimo secolo, ed è la qualificazione classica dei diritti che le collettività esercitano, per esempio, sui boschi, che sono stati sempre chiamati nella legislazione italiana dall'Unità d'Italia in poi, anzi un po' da prima, dalla legislazione napoleonica del regno di Napoli nel 1806 in poi, sono stati chiamati con questa espressione usi civici, espressione che rimanda da una parte al tipo di diritto reale esercitato sulla cosa, che appunto nel nostro caso sarebbe il bosco, possiamo benissimo pensare al bosco, e dall'altra al tipo di soggetto che esercita questo diritto reale. Dunque il diritto reale qualificato di uso è un diritto reale limitato che non coincide con la proprietà e che però si applica su qualsiasi tipo di bene che può essere sia di proprietà di un privato, sia nella disponibilità o nella proprietà di un ente pubblico, per esempio lo Stato, nel caso del demanio, oppure un villaggio che può avere sue proprietà di villaggio, sulle quali si esercitano diritti reali limitati di uso, il cui titolare è l'insieme dei cittadini, i cives. I cives esercitano questo diritto. Quindi se noi analizziamo proprio un po' diciamo così puntigliosamente il sintagma usi civici, ne traiamo un diritto reale limitato atipico, reso atipico non tanto dal tipo di uso del bosco, per esempio in questo caso può essere raccolta della legna per riscaldamento, oppure taglio di piccoli alberi per piccole funzioni di costruzione da parte di famiglie contadine, oppure come abbiamo visto prima ci potrebbe essere un uso civico a favore dei cives di un certo villaggio che consente invece uno sfruttamento di tipo più industriale del bosco, cioè tagliare periodicamente, secondo delle regole previste dalla collettività, tagliare anche alberi d'alto fusto per uso industriale, per ricavarne un reddito per la collettività. Dunque l'irregolarità di questo tipo di diritto reale è data dalla qualificazione del soggetto, perché il soggetto essendo costituito da tutti i cives non è una persona giuridica che può con la sua volontà disporre di questo diritto reale, ma è una collettività piuttosto indifferenziata, la quale deve darsi delle forme istituzionali per poter disporre di questi beni. Per esempio può stabilire l'esistenza di un consiglio degli anziani del villaggio, il quale stabilisce in quali stagioni si può entrare o non si può entrare nel bosco, quando si possono mandare animali a pascolare e quando no e così via. Si stabilisce una regolazione. Il punto ovviamente sempre in discussione a partire dall'Ottocento e poi di più veramente nel Novecento è stato se questo ente che rappresenta i titolari del diritto limitato di uso può essere un ente amministrativo, cioè può essere il comune che rappresenta la popolazione. Se è il comune il titolare dell'uso civico e non i cittadini, allora il comune può disporre di questo diritto nel modo più vantaggioso per le casse comunali. Per esempio può decidere di affittare l'uso del bosco, visto che non è il titolare, ne può disporre, quindi lo può affittare. Ecco, questo problema è un problema che ha occupato legislatori e interpreti, certamente a partire dall'Unità d'Italia. Faccio soltanto due esempi. Il primo è la legislazione per la liquidazione degli usi civici nel 1888 per le ex province pontifice. In queste norme, poi c'è un'altra ripendice nel 1894, si stabilisce che l'uso civico è appunto un diritto reale limitato il cui titolare è il comune, cioè l'ente amministrativo. E si stabilisce anche che, visto lo sviluppo dell'agricoltura e l'accertata per loro, maggiore vantaggiosità di un uso di tipo privatistico ed estensivo dei beni agrari, la cosa migliore da fare di questi usi era di liquidarli. La liquidazione significa trasformazione in denaro liquido. Quindi il comune, nell'interesse della popolazione, doveva cercare di liquidare questi diritti, traendone un guadagno. Però già la legge dell'88 e poi molto di più la legge del 1927, che ha risistemato tutta la materia, prevedeva il caso in cui l'esercizio di questi diritti fosse necessario alla sopravvivenza della popolazione. Per quanto riguarda il bosco, questo accadeva molto di frequente, perché il riscaldamento invernale era del tutto dipendente dalla possibilità di raccogliere legna nel bosco. Sia raccogliere la legna caduta, sia tagliare piccoli alberi per costruirsi una riserva di legna per l'inverno. Questo i legislatori italiani dell'Italia Unita lo hanno previsto in entrambi i casi. Quindi nel 1888 stabiliscono un meccanismo curioso che si chiama liquidazione invertita. Invece di essere il comune che incassa i soldi perché cessa il diritto di uso, è un eventuale proprietario della terra che perde il terreno, che diventa proprietà del comune e riceve un indennizzo. Perché non è possibile fare a meno del bosco per la sopravvivenza del villaggio. però qui c'è un problema sempre di qualificazione. Se il diritto d'uso è un diritto reale esercitato su un bene il cui titolare è una persona giuridica di diritto pubblico come il comune, allora questa persona giuridica acquisisce la proprietà perfetta del bene nel momento in cui lo acquista, acquista il terreno dal precedente proprietario. Quindi diventando proprietario si estinguono lo stesso gli usi civici, cioè i diritti reali in favore dei cittadini sul bene, ma è il comune che è obbligato per legge a stilare un regolamento per l'uso collettivo del bosco da parte di tutti cittadini. La legge del 1927 innova su questo punto preciso, stabilendo che non è mai il comune un proprietario, nel senso di una persona pubblica titolare di proprietà privata, su un terreno, perché nel caso della necessità della conservazione dell'uso civico, allora questo uso trasforma la natura del terreno stesso, cioè il bosco diventa una forma di bene demaniale, cioè escluso dal commercio ed escluso dalla prescrizione, il cui titolare non è il comune ma sono i cittadini del comune. Il comune dunque non fa che rappresentare in qualche caso la volontà dei cittadini, tanto che la dottrina e la giurisprudenza ha rifiutato anche di usare la parola rappresentante per il comune, ha inventato una parola nuova, inventata dalla pratica, non dalla legge, che è ente esponenziale, cioè che espone gli interessi dei cittadini, ma non è titolare e nemmeno rappresentante, quindi sono diritti che rimangono incardinali sui cittadini. Quindi è ovvio che la legge del 1927, a distanza di 90 anni prima, fa da preludio allo sbocco che noi abbiamo nella legge del 2017. Si tratta di una istituzionalizzazione di una pluralità di persone che non passa attraverso la formalizzazione di una personalità giuridica che è stabilita dal diritto amministrativo. Se noi procediamo un po' all'indietro però in questa ricerca di forme di qualificazione, noi troviamo che questa versione di demanializzazione singolare dei beni come proprietà di una collettività indifferenziata e non qualificata come persona è stata usata solo sporadicamente. Normalmente la forma che viene prevista nei trattati, soprattutto nelle legislazioni, nelle raccolte di sentenze per qualificare i diritti di sfruttamento dei boschi è quella di servitù irregolari, servitù rurali, servitù prediali che spesso non si configurano neanche come servitù personali, come in questo caso qua degli usi civici. Non sono servitù in cui una cosa serve una persona oppure una collettività di persone, ma sono servitù nelle quali una cosa serve un'altra cosa. Sono vere servitù prediali, come la servitù di passaggio, nella quale chi è proprietario di un terreno che si trova un po' lontano dalla strada può avere diritto di passare sul terreno di un altro, non perché è un diritto suo, ma perché è una prerogativa che si collega direttamente al fondo che magari lui ha acquistato insieme alla servitù prediale di passaggio. Allora la servitù di raccogliere legna poteva essere configurata ed è stata configurata per esempio molto ampiamente in Francia, a partire dal 500, poi nel 600, poi ancora nel 700, come servitù prediale in cui il fondo dominante, cioè quello che è titolare del diritto, nel mio esempio di passaggio, oppure del diritto di raccogliere la legna, sono le case che compongono il villaggio. Si usa nelle ordonnance francesi del 600 l'espressione maison usagère, cioè le case hanno un diritto d'uso, dunque chiunque abita nelle case ha di conseguenza il diritto di andare a raccogliere la legna per scaldarsi nel bosco che sta vicino al villaggio. Questo modo di equilibrio che esclude i diritti in capo a soggetti umani è sembrato molto rassicurante, perché sembrava preservare l'equilibrio fra beni, cioè un equilibrio che possiamo chiamare oggi ecologia, un'ecologia dei luoghi indipendentemente da chi entrava e usciva dalle case, da quelli che non ci sono neanche comunità di villaggio legate alla presenza di talune famiglie, come accade in certi statuti italiani, perché chiunque entri in quella casa come affittuario per esempio, come semplice occupante, cioè chiunque abiti nel villaggio, proprio per il fatto di usare di una certa casa può usare anche delle raccolte del bosco per riscaldamento. Ma non sono soltanto queste le qualificazioni, se uno continua a spigolare un po' nella letteratura del diritto comune maturo, trova tante altre qualificazioni interessanti. Una per esempio ritorna sulla qualificazione della comunità e non delle cose, l'ho trovata nella commissione dell'Assemblée nationale rivoluzionaria francese che studia la situazione sul territorio al fine di promulgare una legislazione abolitiva dei diritti collettivi e per farlo interroga tutte le comunità sul territorio francese per sapere qual è la situazione nelle diverse zone, nelle diverse regioni di Francia. E qui c'è una comunità che esprime un modo di vedere le cose, che per fare la verità, è piuttosto simile a certe dottrine di oggi su questo tipo di diritti. Cioè dice che questo diritto non si può abolire perché non appartiene soltanto alle persone che sono presenti nel villaggio, ma anche a quelli che dovranno succedergli. Cioè esistono delle generazioni future che sono già prima di esistere i titolari di un diritto e quindi noi non possiamo levarglielo perché non possiamo nemmeno indennizzarle, perché non ci sono, non ci sono ancora. L'unico modo di riconoscerle sarà di riconoscere loro l'esercizio di questo diritto. Altre sono per esempio il ricorso al diritto divino. Nel Deuteronomio si stabilisce che se uno è affamato e passa vicino a un campo coltivato, a qualsiasi campo fruttifero, ha diritto di raccogliere frutti per sfamarsi e il proprietario non può impedirglielo. Allora si dice, per esempio, nel Trattato delle Servitù del Pecchi che gli statuti non possono abolire i diritti di raccolta di frutti spontanei, per esempio nei boschi, perché lo statuto non ha certo il potere di abolire il diritto divino. E lo stesso accade quando in certe regioni, per esempio nel meridione d'Italia, si qualificano questi beni come demanio reggio. Abbiamo visto dalla bella relazione di Javier Garcia Martin che conferire al re il dominio su questi tipi di beni poteva portare con sé ovviamente il potere del re di modificarne l'assetto, essendo lui il supremo legislatore, salvo che sopra lui c'è sempre Dio e quindi c'è il problema di contestare al re il potere di abolire alcuni diritti di raccolta di frutti spontanei che però di cui sono titolari soltanto i poveri, cioè non per uso industriale, soltanto per l'uso delle popolazioni locali che verrebbero a mancare se non potessero più godere di questi diritti. L'ultimo tipo di qualificazione che voglio menzionare, un po' più risalente per la verità, però poi anche questo con riflessi nella contemporaneità, è quello di qualificare il rapporto giuridico di chi usa i beni con i beni, attribuendo diritti a soggetti che non sono umani, che non sono persone fisiche né persone giuridiche. Qui credo che l'idea, il procedimento logico affondi le radici nel diritto romano, in particolare nel tardo diritto romano e soprattutto nella disciplina delle cose sacre. Le cose sacre sono escluse dal commercio, che non possono essere oggetto di diritti né essere commerciate. E però già nel III secolo, in particolare pensando al sepolcro, che era un tipico caso di res sacra, perché vi è seppellito un corpo umano, e quindi non può essere commerciato, né usucapito, è fuori completamente dal commercio. C'è quasi un passaggio per cui si dice, beh, se non può essere un oggetto, potrebbe essere un soggetto. Perché anche l'uomo libero in qualche modo è dotato di una sua sacertà, perché non può essere venduto, non può essere comprato, no? E così anche un oggetto come una tomba potrebbe essere titolare di proprietà di altre cose. Questo lo vediamo perché c'è una certa legislazione romana del IV secolo, in cui l'imperatore mette in guardia, contro la pratica che doveva essere crescente, di donare beni ai sepolcri. Evidentemente si donavano molti beni ai sepolcri per metterli al sicuro. Allora, voi sapete che le prime chiese cristiane sono state edificate sempre sul luogo di sepoltura di un santo, no? Un luogo sacro, un terreno sacro, perché un martire è stato seppellito, oppure un pezzo del corpo del martire, che sarebbe la reliquia, che era stato inserito nell'altare al momento della consagrazione. Allora, questo tipo di sacertà del luogo consente di conferire a questo luogo la funzione di soggetto. E questo luogo perciò diventa soggetto di un diritto di proprietà, che è un diritto di proprietà anche qui caratterizzato da questa funzione di equilibrio ecologico, perché essendo questo soggetto una cosa, non può esprimere la volontà di vendere, per esempio, la volontà di trasformare il bosco tagliandolo, ma deve mantenerlo com'è, per la semplice ragione che essendo un edificio, non può agire come un capitalista che vuole massimizzare il suo profitto dal bene. Quindi sembra un po' che questa possibilità di attribuire diritti a cose sia un'idea molto antica, che ha funzionato anche molto a lungo, per molti secoli i maggiori proprietari di beni in Europa sono stati cose, cioè enti ecclesiastici identificati con l'edificio dove questi enti ecclesiastici si trovavano. E il fatto di rendere soggetti di diritti le cose è un espediente che è stato utilizzato, veramente traendo da esempi sudamericani per esempio, anche nelle discussioni sui beni comuni degli ultimi anni, cioè si è detto una foresta è soggetto, non oggetto, e quindi ha i suoi diritti e non possiamo noi defraugarla di questi diritti. Così si sono attribuiti diritti agli animali e diritti agli alberi per esempio, per tutelarli, per trovare un modo di tutela di questi beni che li metta al sicuro dalle inevitabili modificazioni degli assetti che sono stabiliti quando questi beni sono semplicemente oggetti e non soggetti. Ecco, quindi è semplicemente una carrellata abbastanza rapida, nella quale spero di aver raggiunto l'obiettivo che è quello di dire che molto spesso le qualificazioni moderne hanno antichi antenati che non è difficile identificare nel passato e anche molto spesso però ogni volta che si propone una nuova qualificazione si usa il passato per rispondere all'esigenza del presente. Vi ringrazio per l'attenzione. Ringraziamo il professor Conte per questa esposizione veramente densa e soprattutto che ha permesso con questa sorta di percorso a ritroso avanti, a ritroso nuovamente, di affrontare un tema fondamentale che è l'attenzione per certi versi filologica, che le parole ci conducono e ci inducono a porci delle domande sul perché di certe permanenze. Poi ci sarà tutto il momento delle domande, ma francamente quando c'è stato tutto questo problema, il problema iniziale di andare a ritroso, andare a trovare appunto l'origine della Genoscia of Theorie di Gierke, che poi avrebbe tutto il dibattito su quella che diciamo è il suo allievo democratico, su Prois, su come su tutto questo si proietta in una dimensione sociale, mi è venuta in mente invece la definizione significativa che dà una legge autoritaria che fonde in realtà un modello di poi amministrazione autoritaria, una declinazione autoritaria del concetto di autonomia, come quella dell'Estatuto Municipale di Calvo Sotelo del 1924, che proprio riprende la teoria gierchiana, ma non ne fa come Prois la base per proiettarsi verso la democratizzazione, ma la base per porre lo Stato al di sopra di tutto. Quando dice proprio il municipio in effetto non è il suo del legislatore, è un eccio sociale di convivenza anteriore all'Estat, e anteriore anche e ademà superiore, aspettate che la pagina di te si è bloccata, alla lei. E sta a delimitarsi portanto a riconoscerlo e a impararlo in funzione adiettiva. Quindi addirittura il municipio, il comune, è un qualcosa che è antecedente allo Stato, che però paradossalmente non vuol dire che sia al di sopra dello Stato. Si crea quindi questo cortocircuito, che è un po' il cortocircuito di ente naturale, ente artificiale, su cui per esempio poi tutta la dottrina, soprattutto ispanoamericana, gira per costruire paradossalmente, in alcuni casi relazioni di gerarchia che scindono il momento sociale dal momento politico. Quindi è un ente sociale, ma non è politico, e quindi non fonda la rappresentanza politica. Questo sarebbe un altro discorso, però è molto interessante perché questo ci permette proprio di arrivare alla relazione conclusiva di oggi, quella del professor Maurizio Flick, che ci porta verso veramente le tematiche attuali, che sono tematiche però che anche qui sono legate, come si è visto, a una dimensione storica necessaria per comprendere l'evoluzione del bosco tra tutela, valorizzazione e fruizione. Anche qua due brevissime parole di introduzione su un professor Flick, che è avvocato, nonché presidente della Camera Civile di Genova, collabora dal 2005 con la Cattedra di Diritto Civile dell'Università, sempre dell'Università di Genova, deve insegnare nella Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali. È componente del Comitato Scientifico della Fondazione Courmayeur ed è autore di numerose pubblicazioni scientifiche che spaziano dal diritto civile al diritto ambientale, di cui una l'abbiamo vista appunto oggi, anche recentissima, presentata a quattro mani, realizzata appunto insieme a Giovanni Maria Flick. Cedo dunque la parola a Maurizio Flick per questo ultimo tassello di questa seconda sessione dell'incontro bosco. Prego. Grazie e grazie innanzitutto agli organizzatori di questo bello e interessante convegno. Grazie quindi a Giacomo De Marchi e a Alessandra Dattero per avermi coinvolto quest'oggi. Io, come accennava Giacomo De Marchi, farò praticamente un ragionamento sugli ultimi passaggi storici, nel senso che mi spingerò nel recente passato per poi guardare al presente e infine proiettarmi un pochino nel futuro, facendo un salto un pochino ardimentoso, potremmo dire. L'approccio del legislatore, quantomeno a partire dal Novecento a oggi, rispetto al tema foreste, io partirei dicendo che è paragonabile a un vero e proprio pendolo che ciclicamente si muove da una parte all'altra apparentemente su temi che possiamo dire contrapposti tra loro. Per certi aspetti ci sono periodi in cui il pendolo si muove verso la tutela e in altri momenti invece verso la valorizzazione. Ci sono momenti in cui il pendolo si muove verso la conservazione e poi in altri momenti verso la gestione. Ci sono momenti in cui si muove verso l'interesse pubblico e altri in cui si muove verso l'interesse privato. Sono temi che concettualmente si possono dire contrapposti tra loro, ma a volte invece convergono verso una stessa direzione. Come dicevo, io ripercorro brevemente la storia della legislazione forestale del nostro paese sostanzialmente a partire dall'unità d'Italia. E in questo breve spazio vorrei cercare di darvi cinque francobolli, individuare cinque fasi sostanzialmente per delimitare questo ragionamento. La prima fase, certamente una delle più importanti, è quella dettata dalla legge Serpieri, legge del 1923, che nasce dall'esigenza fondamentale di difesa e tutela del suolo. Questa è una legge che nasce a seguito delle devastazioni provocate dalla Grande Guerra, le operazioni militari, le questioni logistiche, la continua ricerca di risorse energetiche che fossero alternative ai combustibili fossili, le necessità delle truppe al fronte e poi ancora il blocco da parte dell'Austria, che da sempre è uno dei principali fornitori per l'Italia di legname, portarono a un attacco davvero selvaggio, per usare un termine per certi aspetti improprio, ma che rende l'idea, alle foreste italiane. Quello che fece il legislatore, quindi proprio con la legge Serpieri, fu quello di tutelare a tutto tondo il patrimonio forestale della nostra penisola. Passiamo poi a una seconda fase che è quella che caratterizza il boom economico tra gli anni 50 e 70, che è quella della legge Quadrifoglio, che ha invece un ruolo particolare. Va a rivalutare la funzione produttiva della foresta, e quindi vedete come il pendolo si muove immediatamente verso la direzione opposta. assistiamo sostanzialmente a un riassetto del regime forestale tra lo Stato e le regioni, vengono istituite le regioni proprio in questi anni, che prima non erano presenti. Assistiamo alla fase di industrializzazione del paese, e viene proprio promossa una politica di programmazione e sfruttamento forestale. E così passiamo direttamente alla terza fase, che è quella più ambientale del nostro paese, caratterizzata da diversi testi normativi. Io qui ho cercato di sintetizzare e di generalizzare, e qui ho preso come punto di riferimento la cosiddetta legge Galasso, legge del 1985, che va di nuovo a ridimensionare invece quella funzione economico-produttiva che aveva caratterizzato il periodo precedente. E ci introduciamo così alla quarta fase, che è quella che caratterizza i primi vent'anni del nostro secolo. Si arriva al 2001, un anno che è fondamentale a livello forestale, perché è l'anno del decreto legislativo 227, ma è anche l'anno della riforma costituzionale del titolo V. e questa riforma costituzionale ha dei riflessi importanti a livello forestale. Il legislatore, sentivamo prima dal professor Conte tutta una serie di evidenziazioni sull'importanza del linguaggio giuridico, il legislatore del 2001 individua il concetto di tutela e il concetto di valorizzazione, attribuendo la prima allo Stato, alla legislazione esclusiva, e la seconda, quindi la valorizzazione, alla legislazione concorrente, quindi alle regioni. Dimenticandosi però che questi concetti non sono a compartimenti stagni, sono concetti che si influenzano vicendevolmente, e non sono io a dirlo, ma lo è lo scontro che c'è stato davanti alla Corte Costituzionale in questi vent'anni dove Stato e Regioni quasi settimanalmente si sono incontrate e scontrate per capire quando si parlava di tutela e quando di valorizzazione. E arriviamo sempre in questi vent'anni, quindi sempre in questa, tra virgolette, quarta fase, un ulteriore passaggio importante è l'evoluzione dello Stato italiano e dei trattati internazionali, nonché della soggezione della nostra normativa a quella che poi è diventata l'Unione Europea, soggezione chiaramente volontaria da parte del nostro Stato. Ma era quindi necessario un aggiornamento della disciplina che andava a toccare il nostro patrimonio forestale. E arriviamo così a quello che a me interessa maggiormente al provvedimento normativo che in questo momento storico disciplina e individua le regole principali sul nostro patrimonio forestale. E mi riferisco al decreto legislativo 34 del 2018, il cosiddetto TUF, Testo Unico Forestale. E questo è un provvedimento normativo molto importante. E qua ci tengo a evidenziare, io ho cercato di creare una sorta di contrasto tra funzione ambientale e funzione economico-produttiva in questa breve relazione. Proprio perché credo che il punto di partenza per un discorso che sia obiettivo e ragionevole sia quello dell'individuazione di un equilibrio tra le diverse funzioni forestali. E tra le tante io ho preso come riferimento proprio quella ambientale e quella economico-produttiva. Ecco, per trovare per sciogliere il nodo e quindi individuare un punto neutro un punto mediano tra la funzione economico-produttiva e la funzione ambientale credo che si debba partire dallo scansare i radicalismi e quindi per un verso stare lontani da quella politica vetero-ambientalista che per troppo tempo ha caratterizzato la politica italiana dal punto di vista ambientale ma allo stesso tempo chiaramente stare lontani anche da quella funzione economico-produttiva che spesso si trasforma in uno sfruttamento smodato ed eccessivo del nostro patrimonio forestale. Ecco, questo testo unico forestale del 2018 quindi la norma principale per il nostro patrimonio forestale io credo che parta da un punto di riferimento fondamentale che poi richiamava in qualche modo stamattina anche Saverio Russo cioè il TUF parte dalla ricerca di un equilibrio cercando di scansare l'immobilismo del passato da una parte ma anche quelle frange estremiste dall'altro che cercano lo sfruttamento eccessivo e lo fa da il punto di partenza sostanzialmente è questo la consapevolezza che la cura e la custodia dei boschi non possono prescindere dall'intervento dell'uomo cioè finalmente ci si è resi conto che se i boschi non sono resi accessibili se gli alberi malati non vengono curati se gli alberi morti non vengono portati via dal luogo in cui sono caduti se le superfici non vengono costantemente monitorate le conseguenze prodotte dal degrado rischiano di diventare irrecuperabili quindi sostanzialmente poi è il concetto di sviluppo sostenibile questo cercare di aiutare l'ambiente a seguire il proprio corso e quindi seguendo quella metafora iniziale che io facevo sul pendolo credo che questo possa essere un punto di partenza importante per il futuro nel senso che io in questo momento vedo il pendolo in una posizione di equilibrio sostanzialmente sono ben consapevole che il testo unico del 2018 è stato oggetto di diverse polemiche non è nato in maniera condivisa da tutto né dall'arco parlamentare né da diversi studiosi del settore ha avuto anche un po' di sfortuna perché un provvedimento normativo così importante ha bisogno anche di tutta una serie di decreti attuativi prima di andare a regime prima di seguire quel rodaggio che richiede un certo numero di anni e la sfortuna è dettata dalla pandemia che stiamo vivendo proprio in questi giorni perché il decreto è dell'aprile 2018 nel giro di poco più di un anno sudentra la pandemia e quindi il sistema non è andato a regime anzi si è interrotto nella propria attuazione e si è interrotto dicevo in un momento storico che è molto importante che ha portato non tanto a nuove crisi ma ad amplificare nuove ad amplificare vecchie problematiche che si sono acuite con la pandemia e mi riferisco principalmente a tre crisi alla crisi sanitaria che in qualche modo stiamo vivendo ancora in questi giorni alla crisi economico-finanziaria che stiamo vivendo e probabilmente non percepiamo ancora completamente quali saranno le conseguenze e infine alla crisi climatico-ambientale che è quella che in qualche modo riguarda maggiormente i discorsi che facciamo stasera chiaramente queste tre crisi non sono a compartimenti stagni ma sono tutte tra loro collegate e richiedono questo può essere può diventare un'opportunità per il futuro perché sono tre crisi che richiedono risposte immediate ma che allo stesso tempo devono guardare al futuro e i provvedimenti normativi a livello europeo che si stanno decidendo proprio in questi giorni chiariscono con il concetto di transizione ecologica di cui si parla quotidianamente sulle pagine sulle prime pagine dei giornali chiariscono la portata del tema che andiamo ad affrontare dicevo che questa può essere un'opportunità per il futuro perché spesso le crisi possono diventare un momento di cambio di passo e dare il via il via a una nuova era e non è il caso che lo insegni io in una sede di storici dove ho solo che da imparare quindi questo è un ragionamento banale che metto nella vostra disponibilità di certo le ultime crisi non siamo stati in grado di utilizzarle di trasformarle in opportunità è un esempio la crisi economico-finanziaria del 2018 dove ancora una volta abbiamo condiviso tutti i rischi ma poi le utilità e le parti che si potevano utilizzare positivamente sono rimaste nella disponibilità dei pochi spesso dei privati e quindi a favore del concetto del profitto e meno di quel concetto di bene comune che è stato richiamato più e più volte nell'arco dei lavori di questa giornata sicuramente uno dei casi in cui l'eterno conflitto tra forestale tra funzione economico-produttiva e funzione ambientale emerge nelle problematiche relative al commercio illegale del legname e al problema della deforestazione e stamattina a Saverio Russo è stato molto netto nel dire come la deforestazione non è un tema che riguarda la penisola italiana il nostro territorio la superficie italiana aumenta di anno in anno il patrimonio forestale forse il problema per dirla con un adagio che viene spesso utilizzato è che l'Italia è un paese ricco di boschi poveri e forse questa è la ragione per cui importiamo circa l'80% del legname che viene poi lavorato per essere poi riesportato voi sapete che il salone del mobile è il testimone principale di quello che dico la filiera dell'import export e della lavorazione dei mobili è un fiore all'occhiello del nostro paese ma curiosamente il legno che noi lavoriamo proviene dall'estero tutto questo per dire che cosa il primo dato che l'ho detto velocemente stamattina ma lo ripeto perché molte volte è sconosciuto nel 1936 sul territorio italiano c'erano 6 milioni di ettari di bosco nel 2018 sono dati del RAF che è il rapporto annuale delle foreste gli ettari erano 11 milioni quindi quasi raddoppiati e questo è un dato importante e da comunicare quanto meno e non vuol dire che non ci sono problemi ne abbiamo tanti sul nostro patrimonio forestale l'elemento che volevo però evidenziare sulla deforestazione e sul commercio illegale del legname è che anche se non riguarda direttamente il nostro territorio quello della deforestazione è un problema che riguarda il pianeta e come siamo intervenuti ma innanzitutto è un problema che di cui ci si è resi conto a partire dagli anni 70 lo si diceva stamattina il problema ambientale non è toccato ad esempio nella nostra costituzione per una ragione molto semplice perché alla fine degli anni 40 non era un problema quello dell'ambiente tant'è che non viene utilizzata la parola ambiente se ne parla oggi di una riforma costituzionale che dovrebbe andare a toccare l'articolo 9 io credo che ci siano tante altre priorità ma sicuramente intervenire anche da quel punto di vista prima o poi potrebbe anche essere opportuno dicevo storicamente ci si è resi conto a partire dagli anni 70 del problema della deforestazione problema che riguarda non tanto il territorio italiano non tanto i paesi dell'Unione Europea ma che riguarda diversi tra virgolette polmoni del nostro pianeta pensiamo al caso del Myanmar pensiamo al caso dell'Amazonia ad esempio sono casi in cui queste grandi foreste purtroppo si trovano in paesi che per troppo tempo hanno seguito politiche che erano guidate esclusivamente da obiettivi dettati da sviluppo economico a breve termine quindi non si è guardato al futuro allora che cosa ha fatto l'Europa l'Europa non è intervenuta chiaramente sulle norme dei singoli paesi l'Europa con un regolamento che anche qua bisogna porsi qualche domanda un regolamento del 2010 il 995 detto della due diligence del legno ha deciso di cercare di bloccare l'importazione l'arrivo sul territorio dell'Unione Europea di legname tagliato illegalmente e anche i paesi dell'Unione Europea hanno reagito in maniera diversa a questo regolamento io vi porto due esempi che sono abbastanza emblematici e tra loro opposti il caso della Norvegia è quello della Polonia la Norvegia nel 2016 ha attuato la cosiddetta politica della deforestazione zero e cioè ha deciso che tutte le imprese che avessero avuto in qualche modo un contatto un'implicazione un coinvolgimento con pratiche di disboscamento non avrebbero potuto concludere contratti pubblici e quindi capite già la portata di un provvedimento normativo del genere la Polonia invece al contrario a partire dal 2016 2017 sulla foresta secolare di Bialowieza scusate la pronuncia che sarà sicuramente sbagliata questa foresta copre una superficie di più di 1500 km quadrati ed è o la più grande d'Europa o comunque una delle più grandi la politica della Polonia rispetto a questa foresta è stata quella di un disboscamento molto aggressivo che ha portato a delle procedure di infrazione che solo dopo un anno e mezzo hanno dato poi l'effetto di interrompere questo disboscamento ecco questi sono due casi limite ma ce ne sarebbero poi tanti altri da approfondire ma il tempo è un po' tiranno in questo caso abbiamo un dato in più nel 2018 il premio Nobel per l'economia è stato assegnato a William Nordhaus e William Nordhaus tra i diversi studi che ha approfondito è riuscito in qualche modo a dimostrare a livello economico come l'accelerazione dei cambiamenti climatici abbia tra le prime cause quello della deforestazione e conseguentemente l'accelerazione dei cambiamenti climatici ci dice Nordhaus che comporta e comporterà dei danni irreversibili sia per il benessere economico dell'umanità che chiaramente per il nostro ambiente quindi io ho portato come esempio quello della due diligence del legno ma ce ne sono tantissimi altri per dire però che abbiamo una normativa che potrebbe essere un antidoto rispetto ai ragionamenti agli studi che ha fatto Nordhaus alle previsioni che fa per l'imminente futuro dicevo che le crisi possono essere un'opportunità per il futuro e in questo periodo si parla tanto di transizione ecologica di svolta green bisogna vedere però se questa transizione ecologica non corre al rischio di trasformarsi in una transazione economica perché si sta approfondendo a tutto tondo il tema del mercato del profitto e della finanziarizzazione dell'ambiente un ultimo esempio è dallo sguardo al futuro su cui forse a mio avviso bisognerebbe intervenire si parla dall'inizio del 2021 ma è un tema anche questo storico importante che è iniziato a partire dall'inizio del nuovo secolo del mercato delle emissioni il mercato dei crediti di carbonio in qualche modo tutti lo abbiamo letto sui quotidiani ebbene abbiamo una normativa che è disciplinata da una direttiva dell'Unione Europea del 2001 che disciplina questo mercato ETS per i grandi inquinatori all'interno dell'Unione Europea e qui abbiamo curiosamente una non curiosamente è opportuno abbiamo una disciplina iper burocratizzata che è molto complessa molto difficile un dato per tutti le quote di emissione del mercato ETS sono a tutti gli effetti degli strumenti finanziari dal 2018 cioè la direttiva MIFID 2 e i giuristi che sono in questa sede in qualche modo certamente la conoscono individua tanto i bond i cct i cct non ci sono più ma tutti gli strumenti finanziari tradizionali e alla fine di questo elenco inserisce le quote di emissione e traslare to cure una normativa così specialistica così particolare e così lontana dal mondo ambientale sulle quote di emissione a mio avviso può essere un passo ardito quindi mentre dall'altra parte volevo evidenziare la differenza ci sono poi dei mercati volontari dove si possono scambiare crediti di carbonio e in questo caso dicevo a differenza rispetto al mercato ETS che è quello dell'Unione Europea qui non vi è nessuna regola ci si affida esclusivamente alla buona fede degli operatori al mercato libero io direi in maniera sfrenata liberamente sfrenata senza nessuna accortezza forse riequilibrare la distanza tra questi due mercati considerato che diversi soggetti facendo un'attività di greenwashing sostanzialmente quindi di marketing con i propri clienti svendono progetti o di riforestazione o in tanti in tanti modi o anche di ulteriore vendita di crediti di carbonio credo che si potrebbe intervenire e si potrebbe anche studiare e approfondire questi temi che sono a mio avviso almeno io non ho trovato soprattutto a livello italiano approfondimenti né scientifici né pratici cioè non sono trattati né dall'università né da né ho trovato giurisprudenza che vada a toccare in qualche modo questo ambito quindi credo che ci troviamo in un momento molto importante a livello storico una crisi che lo ribadisco ci tengo a ripeterlo che può essere trasformata in un'opportunità di cambio per il futuro io mi auguro che ci siano le premesse per un reale cambio verso il green verso questa transizione ecologica che peraltro questa transizione ecologica nasce da una intuizione di Papa Francesco che la chiamava però rivoluzione ecologica e tra rivoluzione e transizione c'è una bella differenza concettuale qui mi fermo perché direi che ho terminato il mio tempo vi ringrazio per l'attenzione e sono a disposizione per qualsiasi chiarimento approfondimento ringraziamo a noi il professor Flick per questo quadro che ci porta nell'attualità ma che ancora una volta da un lato sottolinea che è un'attualità che ha radici profonde specie per quelle che possono essere inerzie o passività d'azione da parte spesso del potere pubblico anche da parte della società civile e che poi secondo me sottolinea un punto fondamentale che è un po' anche lo spirito di questo incontro di questo progetto che quando si affronta un tema come l'ambiente in generale quello della foresta in particolare veramente le interrelazioni fra dimensione tecnico-scientifica economica ambientale giuridica storica non sono solo un arricchimento culturale ma sono una necessità per riuscire a costruire qualcosa e per non lasciarsi in alcuni casi abbacinare da quello che sono solo il proscenio di una vicenda perché andando proprio sulla dimensione giuridica molto spesso ci si limita e questo vale per tutta l'analisi della storia giuridica a focalizzarsi sul dato normativo magari anche sul dato costituzionale spesso si dimentica che se uno poi non va a scavare a trovare magari il regolamento che applicava quella norma quindi ciò che permetteva una connessione fra piano normativo e pratica spesso in quel regolamento nelle pieghe di quei regolamenti si trovano le ragioni di molti malfunzionamenti o disfunzioni che in apparenza sembrano esplicabili con ciò io direi che possiamo aprire abbiamo ancora credo un po' di tempo chiedo conforto anche a Alessandra Dattero che se non mi ricordo male aveva detto che l'idea era terminare entro le sei e mezza ma abbiamo ancora tempo per un giro di domande e di questioni tanto su questi ultimi interventi come più in generale sugli interventi di questa sessione vedo che c'è già una mano alzata di Alessandrisoni poi ho aperto sempre quando c'erano le prenotazioni e quando ci sono le offerte Alessandro buonasera buonasera a te la parola buonasera a tutti grazie Giacomo per l'invito al convegno io sarò il presidente della sessione pomeridiana di domani e i miei complimenti innanzitutto per l'organizzazione per la platea degli ospiti e per la qualità delle relazioni sia quelle di stamattina che ho molto apprezzato ma anche quelle di oggi pomeriggio il mio intervento voleva essere diciamo così un contributo al dibattito che si è sviluppato in particolare nella seconda parte della sessione pomeridiana e volevo iniziare con una parola di speranza rispetto a quello che diceva il professore Flick in merito all'assenza o comunque alla scarsità di contributi scientifici in materia di diritto ma anche di storia forestale e comunque di riflessioni su queste tematiche noi a Lecce modestamente qualche anno fa abbiamo curato un convegno da cui poi è scaturito un bel volume non so se vedete se è possibile vedere perché mi rendo conto che il monitor è molto piccolo se volete vi leggo il titolo che ha a che fare proprio con quello che diceva il professore Flick il titolo del libro che appunto contiene i contributi al convegno era i boschi e le foreste come frontiere del dialogo tra scienze giuridiche e scienze della vita dalle radici storiche alle prospettive future e in questo volume è un bel volume che non ha conosciuto secondo me la fortuna che meritava non perché ho scritto un contributo ma perché appunto era ampio e variegato e soprattutto aveva una prospettiva molto interdisciplinare e vi erano molti dei temi che sono emersi questo pomeriggio io ne volevo affrontare almeno un paio giusto per apportare un modesto contributo al dibattito e riferendomi in particolare alle questioni che ha affrontato il professore Conte all'inizio e poi quelle che ha affrontato il professore Flick riguardo alla relazione del professore Conte che ho molto apprezzato per la straordinaria profondità storica anche capacità di legare periodi molto distanti l'uno dall'altro penso che se volessimo fare una sorta di bilancio di quello che è la disamina della disciplina e soprattutto della riflessione su alcune tematiche in particolare relative agli usi civici o lato senso comunque quelli che per esempio in Sardegna che è la regione da cui io provengo si chiamano gli ademprivi cioè le terre appunto comuni e l'elemento che può emergere e che secondo me rappresenta una discrimine fondamentale per indicare le mancate cesure o le forzate cesure tra medioevo modernità ed età contemporanea è la la confusione oppure se vogliamo la confusione forse un termine un po' forte la mancata ridefinizione del confine tra pubblico e privato perché pubblico spesso viene confuso con statale e questa è l'ipoteca fortissima che la modernità imposta in questa relazione dicotomica appunto gli usi civici ci dicono che appunto il pubblico non coincide con statale anzi rimanendo proprio nella tematica relativa al discorso che si faceva oggi e all'oggetto della riflessione cioè i boschi e le foreste il pubblico viene da popolo e il popolo viene da pioppo e appunto perché viene da pioppo perché i pioppi quando tira il vento si muovono all'unisono e quindi il popolo viene visto come un'entità appunto omogenea se volessimo usare un termine preso dal lessico medievale un'entità organicisticamente ben definita e questo che cosa ci dice ci dice anche che in realtà gli usi civici non sono poi qualcosa di così incomprensibile o comunque di così difficilmente regolabile e sono difficilmente comprensibili difficilmente regolabili se si adottano a una prospettiva chiamala così top down per usare il lessico politologico anglosassone cioè se si pensa che lo Stato sia il depositario della disciplina giuridica per eccellenza un po' riferendoci a quello che diceva Giacomo in precedenza sulla definizione di municipio nell'ordinamento spagnolo negli anni venti in realtà specialmente nell'ordinamento italiano io penso che l'asse concettuale intorno al quale andrebbero ridefinite molte dei principi cardine del nostro ordinamento è l'articolo 5 della Costituzione dove non si fa riferimento allo Stato ma si fa riferimento alla Repubblica che appunto riconosce promuove le autonomie locali cioè le autonomie locali presissono allo Stato e anche la definizione di ente esponenziale qui faceva riferimento al professore Conte che ho molto apprezzato e appunto l'ente esponenziale si possono avere comunità locali non rappresentate o non esposte per usare l'espressione che si usava prima da un comune ma non ci sono comuni senza comunità locali cioè le comunità locali sono la condizione necessaria e sufficiente perché ci possa essere un comune ma non ci può essere la dimensione diciamo così contraria per cui gli usicivi c'è appunto che in Sardegna io personalmente il comune in cui ho risieduto fino a vent'anni fa sono presenti e io con mio padre per esempio per tanti anni siamo andati a raccogliere la legna a fare tutte quelle attività che sono apparentemente molto remote nel tempo e che invece in molta parte del sud ma anche in parti dell'arco alpino e in Sardegna sono ancora molto comuni e nessuno si sogna di utilizzare gli usi civici come una proprietà privata c'è un rispetto comunitario appunto per questa dimensione che probabilmente è un retaggio anche di una dimensione se lasciate passare il termine pre-capitalistica e questo secondo aspetto cioè l'idea che i boschi e le foreste possano essere interpretati come qualcosa che esula o comunque sta anche al di fuori della dimensione meramente economica potrebbe essere ripreso con un secondo aspetto che il professor Flick in realtà ha soltanto sfiorato ma ripeto era talmente ricca la relazione che era molto difficile racchiudere tutto quanto all'interno di 20 minuti che è quello che la scienza giuridica ma in particolare la scienza economica sta studiando da una ventina di anni a questa parte che sono i cosiddetti servizi ecosistemici e la retribuzione dei servizi ecosistemici cioè il fatto appunto che le foreste offrono gratuitamente una serie di servizi alle comunità che non vengono monetarizzati chiamiamole così e quindi cosa accade si è arrivati alla conclusione che invece occorre trovare delle formule che siano in grado di rendere giustizia dello sforzo che viene profuso all'interno dei boschi delle foreste da parte di coloro che per esempio anche i privati le posseggono e ne sono proprietari perché questo aspetto è importante perché noi io adesso vivo a Lecce e quindi ho vissuto in prima persona sia come genero di un proprietario di qualche albero di olivo ma anche come componente della task force regionale per la lotta dalla xylella noi in Puglia abbiamo vissuto la distruzione massiccia di un patrimonio forestale perché di questo si tratta che ha interessato per adesso soltanto le province di Lecce Taranto e Bindisi ma è soltanto una questione di tempo interesserà a breve tutta l'Italia almeno laddove sono presenti alberi d'olivo e tutta la riflessione iniziale è stata concentrata sull'idea appunto che il danno fosse semplicemente un danno economico cioè morivano gli alberi non c'erano più olive non si produceva più olio quasi immediatamente però ci si è resi conto che in realtà il danno era molto molto più grave rispetto a quello c'era innanzitutto un danno paesaggistico e quindi c'era un danno che ha interessato quello che appunto un tempo era un vero e proprio bosco di ulivi che oggi non esiste più oggi è un cimitero di ulivi il paesaggio da grigio verde e cereo è diventato invece oggi marrone non c'è più non ci sono più gli alberi in più quello era contribuiva a purificare l'aria a combattere il disastro idrogeologico era una radice identitaria delle popolazioni che abitavano che abitano su questa terra almeno da per almeno da almeno da 400 anni ecco tant'è vero che per esempio l'olivo rientra anche nello stemma della regione Puglia ecco queste tutte queste questioni si sono legate con l'idea appunto che l'accidella si fosse diffusa perché i contadini non avevano curato abbastanza i propri campi in parte è anche vero forse ne hanno curati troppo secondo però i principi della rivoluzione verde quindi utilizzando pesticidi e tutto quello che ha contribuito a distruggere la biodiversità nei terreni ma soprattutto ci si è resi conto che in un contesto che in Italia è molto diffuso di parcellizzazione dei terreni e di spiccata anche l'invecchiamento della popolazione agricola pensare che il patrimonio boschivo possa essere conservato contando soltanto sulla vendita delle prodotti economici e quindi dell'attività economica su quelle foreste o su quei boschi è un'idea appunto che non sta più in piedi occorre pensare sistemi che siano in grado di rendere giustizia delle attività che si svolgono all'interno dei boschi per esempio appunto remunerando le attività di pulizia di sfalcio dell'erba di potature frequenti tutte cose che apparentemente non servono a niente ma che invece ad esempio prevengono incendi prevengono il dissesto ideologico le frane tanto per fare un esempio un altro esempio pugliese Bari fino agli anni 30 del 900 veniva periodicamente allagata dalle alluvioni che provenivano dalla murgia negli anni 30 fu piantata la foresta di Mercadante da quel momento in poi Bari non ha più avuto alluvioni e la foresta viene diventata oggi anche un luogo di ritrovo un posto dove si vanno a fare le gite con i bambini ed è anche soprattutto qualcosa che in un contesto paradesertico come quello del Mezzogiorno d'Italia rappresenta un paradiso verde quindi questi due elementi la distinzione appunto fra pubblico e privato ma appunto uscendo dalla logica della dicotomia statale privato e la questione dei servizi ecosistemici secondo me possono essere ulteriori spunti di riflessione su cui appunto il professore Ficca ha lanciato giustamente una sfida che il convegno di oggi e di domani per cui il convegno di oggi e di domani rappresenta già una bella risposta e anche il gruppo che si è creato in cui faccio anche i miei complimenti può sicuramente dare un inizio un avvio di riflessione grazie ringraziamo appunto Alessandro Isoni professore per la Università del Salento che appunto modellerà l'ultima sessione di domani oltre per le suggestioni ma per aver portato anche a conoscenza infatti una delle ragioni anche proprio della partecipazione del professore Isoni a questo incontro è il fatto che purtroppo ci fu questo bel gruppo che continua a essersi correggimi Alessandro se sbaglio ma questo gruppo continua a essersi questo vostro gruppo siamo ancora anzi anche che abbiamo una collana con la casa editrice Springer che potrebbe ospitare eventuali lavori ecco che purtroppo però come in alcuni casi capita la circolazione accademica si scontra contro barriere che non si riescono a buttare giù neanche attestate letteralmente allora ogni tanto diciamo questi mezzi adesso di diffusione più amplia grazie a Teams hanno il difetto di scatolarci ma hanno il pregio perlomeno di riuscire a riportare questioni che rischiano di rimanere solo a livello micro micro territoriale aveva alzato la mano se non mi sbaglio la professoressa di Rezzavillata prego grazie due brevi domande al professor Conte a Emanuele e al professor Flick allora a Emanuele io chiederei se quando lui parla di usi civici nell'età medievale e anche nell'età moderna come di diritti reali limitati oppure o di servitù ho sentito anche questa parola si faccia riferimento naturalmente a una titolarità degli usi civici distinta dal suolo perché effettivamente nell'età medievale c'è questa distinzione soltanto con le riforme leopolline a un certo momento si arriva l'incorporazione del diritto di pascolo nel suolo quindi c'è un lungo tragitto ancora una volta c'è un po' di pendolo come diceva il professor Flick sono totalmente d'accordo su questa visione un po' flessibile della normativa e quindi senza dubbio ti chiedo se questo corrisponde a quanto tu hai detto invece al professor Flick chiederei se il piano aria e clima del Comune di Milano è entrato in vigore nel 2021 si ponga secondo lui in correlazione ovviamente non so con la direttiva europea del 2008 piuttosto che con altra direttiva europea oppure anche con il testo unico forestale nell'intento di diminuire l'inquinamento atmosferico e quindi di ottenere una maggiore salubrità dell'aria e far diventare Milano nel 2050 credo che sia anche un libro dei sogni una Milano più verde più vivibile più adatta a sopportare l'emergenza climatica grazie io chiederei se ci sono altre domande se no magari due risposte a caldo in questo caso anche le tipologie di domande possono essere più funzionali non vedo altre mani alzate per ora quindi prima professor Conte poi professor Flick grazie allora grazie Alessandro Isoni per tutte le suggestioni molto ricche e interessanti io ho un po' di tempo che ho preso delle posizioni qualche volta un po' polemiche nei confronti di appunto una certa esaltazione dell'identità di un certo identitarismo che mi è sembrato sia un po' una coda lunga di certe dottrine giuridiche soprattutto elaborate in Germania corrispondenza con la nascita del secondo Reich e poi riprese intorno contro spesso la repubblica di Weimar come ha giustamente sottolineato prima Giacomo De Marchi con osservazioni che ho trovato molto pertinenti per esempio il fatto del popolo prendo soltanto una questione che il popolo se sia naturale precedente al diritto sì forse sì però certo non è precedente a una identificazione almeno liturgica cioè bisogna per esempio anche dare spazio ad altre forme di gestione sociale come quelle religiose in particolare quelle liturgiche che servono a fare un soggetto quando non c'è e questo si fa nella dottrina politica medievali attingendo al deposito più ricco per noi europei di definizioni politiche cioè la Bibbia e nella Bibbia il popolo è una molteplicità di persone tutte diverse una dall'altra che diventa popolo solo nel momento in cui acclama il re l'Israele e di questo era molto consapevole Carl Schmitt per esempio che diceva ogni sovrano ha bisogno del momento dell'acclamazione ma aggiungo anche ogni popolo esiste solo nel momento in cui acclama se no non esiste questa acclamazione viene stilizzata dalle liturgie sia liturgie pagane sia liturgie ebraiche e poi liturgie cristiane che appunto definiscono questo soggetto che poi è il soggetto politico per eccellenza ecco però io un po' sono stato molto influenzato da Yantoma su tutte queste Yantoma diceva che insomma la natura non esiste la natura è un'istituzione artificiale per il diritto e quindi questa artificialità è sempre diciamo stilizzata dal pensiero umano non può esistere una natura che si impone da sé di cui noi prendiamo soltanto riconoscimento questo riconoscimento è anche una creazione di un soggetto per dire queste dottrine molto identitarie si scontrano col problema dei movimenti delle persone delle immigrazioni della multietnicità di certe comunità le quali se uno le lasciasse alla loro identità diciamo per fassung storica rifiuterebbero tutti i tipi di ingressi esterni invece quando queste comunità sono identificate con un processo di astrazione quindi con un processo di denaturalizzazione allora possono diventare per esempio accoglienti quindi non è detto quello che volevo dire non è detto sempre che riferirsi alla naturalità delle istituzioni significhi anche riferirsi alla loro giustizia perché poi la natura è un luogo di ingiustizia molto frequentemente quindi bisogna fare un po' attenzione ad un uso indiscriminato di questo riferimento a entità così spontanee a Giliola volevo la ringrazio anche per questa si parla molto effettivamente anche oggi di proprietà e diritti come un fascio di diritti e qui credo in questo senso correttamente si fa riferimento all'esperienza premoderna per esempio prendiamo le servitù le servitù dalle dottrine di diritto comune a partire dal tardo meteorevo per tutta l'età moderna sono tantissime ci sono nei libri avrei visti tanti nei libri giustinianei delle bellissime incisioni di alberi delle servitù con tantissimi rami e con tantissime forme di servitù nel senso di diritti sulle cose che sono limitate per esempio su un bosco ci può essere il diritto ovviamente del proprietario del bosco poi c'è il diritto della popolazione di andare a raccogliere la legna poi ci può essere un altro diritto che può essere conferito dalla comunità a qualcuno che invece deve sfruttare il bosco per prendere legname da costruzione poi ci può essere il diritto di caccia di un nobile della regione che ha diritto di cacciare in tutti i terreni della regione poi ci può essere un diritto dei poveri della zona che possono sempre andare a raccogliere frutti selvatici dunque questo fascio di usi diversi del bene costituisce e smembra come si dice in Francia si usa molto la parola smembramento smembra il diritto di proprietà allora il tentativo dell'età dell'illuminismo e poi delle codificazioni borghesi è stato quello di eliminare tagliare l'albero delle servitù qualificare nei codici civili soltanto pochissime forme di servitù prediali e certi diritti personali che non sono più chiamati servitù mentre nell'antico regime uso su frutto abitazione sono servitù personali invece nelle codificazioni a partire da Napoleone in poi sono diritti reali non qualificati come servitù quindi c'è proprio un cambio di struttura in favore della proprietà perfetta eccetera e quindi qui chiamiamo anche quello che diceva Alessandro Isoni sullo sfruttamento di beni in Sardegna e i tentativi sardi per esempio di perseguire la proprietà perfetta come forma più evoluta più avanzata di sfruttamento dei beni adesso mi sembra completamente superata questa idea e praticamente tutti i giuristi dicono si stava meglio quando si stava peggio ed era molto meglio il sistema del diritto comune con questo riconoscimento di una pluralità di diritti che competono a soggetti ma io insisto anche a non soggetti umani cioè ad altre cose ci sono equilibri stabili nei quali la volontà umana non può avere effetto perché sono stabilizzati grazie professor Flick anche grazie allora parto con le suggestioni di Alessandro Isoni che sono state tantissime io provo a prenderne qualcuna e a dire due parole mi sono segnato il testo del volume che ha mostrato e certamente cercherò di prenderne copia io mi riferivo però sulla scarsità di testi scientifici relativamente alle quote di emissione al mercato non so se voi l'avete trattato ma nel caso sarò ben lieto di leggerlo perché proprio ho trovato pressoché nulla mi sembra che il discorso che accompagna tutte le suggestioni che ha portato sia in qualche modo sempre collegato a quello dei beni comuni rievocati tante volte nel corso della giornata e che è un discorso a livello teorico bellissimo condiviso praticamente da tutti sfido io a trovare qualcuno contrario io credo che però ci siano due problemi molto pratici e concreti il primo è che i beni comuni nel nostro paese non esistono nel senso che la costituzione italiana parla di beni pubblici e di beni privati e questo è un passaggio importante e il secondo è di tipo più teorico nel senso che nella fase destruence si trovano tantissimi elementi per distruggere il concetto di proprietà privata attuale ma quando si passa alla fase costruence quando bisogna iniziare a delimitare i confini del bene comune si inizia a faticare molto lì sorgono i veri problemi e quindi io ho la sensazione che adesso siamo lontani dal potere individuare era un bellissimo progetto quello della commissione erodottata che però si è arginato almeno per ora io lo vedo fermo e io sono un positivo nel senso sono favorevole al concetto di bene comune lo dico a malincuore non contro questa visione credo però che la si debba razionalizzare per poter arrivare a qualcosa di concreto e realizzabile a livello normativo ciò non toglie che però se non possiamo parlare di beni comuni a livello normativo si possono trovare degli escamotage per raggiungere da una strada diversa il medesimo obiettivo e in tutto quello che diceva forse sto facendo un minestrone però io vedo dei collegamenti con quello che diceva e con questo ragionamento ad esempio un articolo molto spesso dimenticato è il 118 secondo comma della Costituzione che è quello della sussidiarietà orizzontale e non è un caso che adesso mi ero preso la Costituzione l'articolo 9 della Costituzione articolo che è stato citato più volte anch'esso nel corso della giornata si parla di tutela del paesaggio del patrimonio artistico storico e artistico della nazione e se è abbastanza comune l'idea che il cittadino si possa attivare per prendersi cura della fontana che ha sotto casa o della piazzetta dove vanno a giocare i ragazzini è meno comune l'idea che la gente si possa attivare e occupare dell'aiuola o ancora più del bosco vicino a casa secondo me su un concetto del genere a livello normativo si possono fare dei lavori concreti che possono portare a risultati perché nel discorso che stiamo facendo non ci interessa tanto poter utilizzare per forza la formula bene comune ci interessa raggiungere l'obiettivo mi sembra e credo che approfondire le potenzialità di una norma all'interno della costituzione che quindi coinvolge lo Stato e gli enti locali questa norma possa avere una portata e una forza che forse non consideriamo con la dovuta attenzione condivido il richiamo ai servizi ecosistemici e forse non l'ho detto prima io sono assolutamente d'accordo per un equilibrio tra funzione ambientale e funzione economico produttiva credo che si possa anche guadagnare dall'ambiente con certi paletti però con certi limiti ovviamente questo non so se sono stato troppo confusionale però è un passaggio che volevo toccare con riferimento alla domanda molto secca della professoressa di Renzo mi trovo a disagio nel senso che il piano aria e clima io non sono in grado di dare una valutazione tanto meno tecnica perché non sono assolutamente in grado quindi ammetto le mie colpe certo è da quello che ho letto che è assolutamente in linea con quello che sta arrivando dall'Europa noi siamo destinatari sostanzialmente la linea ce la ce la da Bruxelles volenti o nolenti su questi progetti e da quello che ho letto mi sembra che Milano stia andando in questa direzione che è una direzione virtuosa forse anche lì io non lo so se gli amministratori locali si rendono conto di che cosa poi voglia dire concretamente ridurre del 50% la mobilità in una città che è inflazionata dal traffico come ben sappiamo e come sa meglio lei di me da milanese certo è che nell'era della pandemia abbiamo imparato anche a lavorare in maniera diversa e quindi a ridurre il traffico in città lo smart working è la testimonianza termine che due anni fa ignoravamo non avevamo nel nostro vocabolario e adesso non lo metteremo neanche in corsivo in un pezzo da pubblicare perché è di comune fruibilità e questo porta però a una serie di ragionamenti ulteriori come si vuole concepire la città del futuro una smart city per il futuro una i francesi parlano della città entro il quarto d'ora entro i 15 minuti per cui bisognerebbe arrivare dalla periferia e noi abbiamo un concetto di periferia sempre negativo nel nostro pensare le periferie si possono trasformare alcuni dicono che Genova sta diventando una periferia di Milano ad esempio purtroppo le infrastrutture non aiutano perché ci vogliono quasi due ore per raggiungerla ma con altre infrastrutture e forse in un altro momento storico si potrebbe trattare di un luogo dove si va e viene ingiornata ma questo vuol dire però riprendere il contatto con la campagna perché una delle questioni io non l'ho toccato come tema perché ne ho già toccati tanti oggi però il grosso problema che riguarda la campagna e i tanti borghi abbandonati che abbiamo in Italia bisognerebbe investire finanze bisognerebbe investire persone ci sono associazioni che se ne occupano ad esempio penso a Uncem che è l'unione nazionale dei comuni montani che punta a rivitalizzare tanti borghi abbandonati forse abbiamo gli strumenti anche tecnologici che mancavano un po' di anni fa per fare dei ragionamenti del genere e un ultimo collegamento che mi viene in mente rispetto a quello che diceva Alessandro Isoni incendi e alluvioni io sono genovese una terra che è martoriata sia dagli incendi che dalle alluvioni chiaramente credo che molti incendi adesso arrivano a toccare anche comuni abitati abitazioni case e questo è dovuto spesso all'abbandono delle foreste che è quello che dicevo prima bisogna intervenire per evitare anche danni all'uomo e allo stesso modo alluvioni vi ricordate tutti nel 2011 le alluvioni che hanno colpito le cinque terre alle cinque terre la Liguria sapete che ha terre molto difficili da coltivare che sono tutte atterrazzamenti sostanzialmente e tutti i muri a secco che erano fatti dalle generazioni passate non avevano solo la funzione estetica per cui vengono portati turisti da tutto il mondo a visitarle avevano anche una funzione di tutela idrogeologica credo che il ripopolare i borghi come dicevo prima che potrebbe servire anche forse al piano aria e clima di Milano ma potrebbe avere anche una funzione in qualche modo idrogeologica perché vorrebbe dire riportare persone in campagna e ridare quella vitalità alle nostre campagne che adesso non mi ricordo i numeri ma sono imbarazzanti come nel corso degli ultimi cent'anni si siano spopolate le campagne e si sia praticamente azzerata la forza lavoro nelle nostre campagne mi fermo qua mi fermo qua grazie mille al professor Flick per queste ultime riflessioni che molto tutto poi si collegano appunto ormai a scenari futuri di urbanistica che speriamo che non si trasformino che non facciano della Milano del 2050 una nuova New Towns secondo quelli che erano i piani urbanistici invece inglesi degli anni 60 che sono miseramente falliti ecco speriamo di no vedo apprezzato la mano ancora Alice Raviola prego ma è una chiosa culmina forse anche pleonattica a tutti i bellissimi interventi di oggi in particolare a quello del professor Flick che ha citato la legge Galasso del 1985 ecco in un convegno nato da da storici in primo luogo mi fa piacere ricordare che Giuseppe Galasso è stato soprattutto uno storico era allora sottosegretario al ministero dei beni culturali e ambientali così si chiamava all'epoca e volle fortemente questa legge di tutela del paesaggio quindi credo che sia una testimonianza questa molto significativa del lavoro che stiamo svolgendo tutti oggi benissimo adesso concederei giusto proprio in chiusura due perché vale una chiusura di questa seconda sessione la parola Alessandra Dattero per chiudere la prima giornata densa intensa prego credo solo che le mani alzate siano inerzie di prima giusto sono ancora alzate ma non ci sono altre domande giusto vedo che c'è anche la professoressa di Lorenzo Villata che ha ancora la mano alzata ok no ti chiedevo per scopo prego va bene sì beh chiudo molto rapidamente dicendo appunto che è stata una giornata veramente molto molto proficua siamo partiti dall'archeologia medievale alla contemporaneità e poi appunto in queste relazioni pomeridiane di diritto ho imparato molto perché non è appunto non essendo esperta della materia e ecco entriamo proprio siamo proprio abbiamo avviato proprio questo discorso transdisciplinare insomma che è quello che voleva proprio contraddistinguere i nostri lavori domani abbiamo esperti botanici e anche si approfondirà l'aspetto semantico ecco nelle relazioni della mattina quindi avremo modo di approfondire di tornare sulle stesse tematiche che sono state affrontate oggi appunto sul piano storico e del diritto e poi nel pomeriggio ecco c'è il punto del nostro gruppo del nostro lavoro di ricerca specifico sulla Lombardia quindi non posso che ringraziare tutti perché sono veramente molto contenta del lavoro svolto fin qui e darvi appuntamento appunto domani mattina alle nove come oggi ecco ricordo che domani poi dovremo utilizzare un altro link quello che vi ho mandato ecco e basta io chiuderei qui se non ci sono altre osservazioni da parte di qualcun altro benissimo allora grazie ancora e arrivederci a domani a tutti grazie 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 a domani grazie a domani